Massimo D'Alema no, referendum 4 dicembre 2016 no, ama Giuliano Pisapia sì, perché Giuliano Pisapia aveva pubblicamente dichiarato che per il referendum 4 dicembre 2016 era meglio votare sì, votare sì come Matteo Renzi, capito? Allora il capo, il capo, il capo dei no, che era Massimo D'Alema, il capo dei no, il no, del no a Matteo Renzi era Massimo D'Alema, Massimo D'Alema, adesso Massimo D'Alema dice che Giuliano Pisapia sarà il suo leader, nel nuovo soggetto politico che si formerà a sinistra del PD, il leader dovrebbe essere Giuliano Pisapia, che era a favore del sì, Massimo D'Alema non vuole stare sotto Matteo Renzi, però dice che va a stare sotto Giuliano Pisapia, Massimo D'Alema che è stato il capo della corrente del no, dice che adesso è uscito dal PD, è uscito dal PD, è uscito dal PD, comandato da Matteo Renzi, è uscito dal PD, comandato da Matteo Renzi e rottamatore e ha detto Massimo D'Alema che va a mettersi sotto la leadership di Giuliano Pisapia, che ha detto pubblicamente che era meglio votare sì come Matteo Renzi, quindi il capo dei no, Massimo D'Alema va a mettersi con Pisapia che ha detto sì, ecco giudicate voi amici miei, giudicate voi la situazione, dite un po' voi come stanno le rose a questo mondo, io come stanno le rose a questo mondo, l'ho già scritto qua, adesso ditemelo voi, l'articolo ve lo metto nel riassunto di questo video, Massimo D'Alema non voleva stare sotto Matteo Renzi per via del sì e del no, però Massimo D'Alema, il capo dei no, va a mettersi sotto Giuliano Pisapia che ha detto sì, va bene, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni